Gianni, intanto complimenti contro una delle formazioni più quotate di questo torneo, di questo ventetraesimo Memorial Laurentini. La tua squadra ha fatto sicuramente una bella figura. Sono contento, hanno giocato bene, hanno tenuto il campo bene. Peccato che il risultato non ci premia. Sinceramente speravano un pareggino, all'ultimo così, però devo dire che la Giovannese ha meritato il risultato. Ma anche all'inizio del secondo tempo ci sono stati due palle e gol dove l'Imer davano migliori fortuna. Sì, sicuramente sì. Magari dopo lì la chiudeva una partita, però noi siamo cresciuti nell'andare della partita, siamo cresciuti col tempo. Sono soddisfatto, hanno giocato una partita gagliarda diciamo. Certo, certo. Tanto però la cosa importante è che i ragazzi hanno preso questo impegno con grande responsabilità. Sicuramente sì, perché io in primis ci tengo tanto a questo torneo. L'ho visto da spettatore e è un torneo importante, è un torneo che lancia un messaggio importante per le generazioni future. Ok, grazie. Prego. Prego.